Reverendo padre, buongiorno! Buongiorno a te, fratello! Eh, vieni qua, mi penso che è un daio peccato di nuovo, padre! Daio peccato di non finire! Bene! Vieni pure che così ci confessiamo e nello stesso tempo mi dice cosa hai combinato! Ha combinato grave, padre! Grave ha combinato! Eh, mi pare che è grave per davvero! Beh, allora, incomincia! Mi facciamo ragazza! Oh, madonna mia! Eh, vabbè, ma comunque questo, oggi come oggi, poi tempi moderni... Non è tanto grave, pensate! Non è molto grave. Comunque io ti asso... Eh, fermate padre! Che ci sto vivendo, madonna! Ma dovete che fare! Eh, un pochettino di... Fermate che non finire! Eh, dimmi cos'hai... E non mi fici pure a mia socia! Oh, benedetto Dio! Eh, no, questo no! Eh, 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 ora stiamo andando oltre! Eh... Ma comunque... Padre, guarda... Eh, cadda in bicicletta! Eh, che volete che faccio? Vabbè, comunque io ti asso... Fermate padre che ancora non finire! Ma dovete tanto che fare voi! Fermate cinque minuti! Eh, ho un po' di fretta! Eh, fermate che vendevi a contare! Che parte? No, non mi fici pure a mia socia! Oh, santo Dio! E tutti i santi del paradiso! Questo è il massimo! Comunque, in ogni caso... Io ho molta fretta! Ti assolvo! Fermate padre! Innanzitutto non... Io ho il massimo che era a mezzo acceleratore! Ma sono il minimo! Eh... Io vediamo il video tutto completo padre!